Consiglio questo romanzo affascinante e coinvolgente che raccolta la storia di un giovane e ambizioso mago di strada, Oliver Abdo. I morti dicono che ricordi a Mr. Crowley, il magus più malvagio del mondo, più ossessionato dal desiderio di scoprire i segreti della magia nera. La trama è ben strutturata e mantiene l'interesse del lettore fino alla fine, con numerosi colpi di scena e sviluppi inaspettati. Mogam ha uno stile di scrittura fluido e avvincente, che rende piacevole la lettura del romanzo. E Oliver Abdo è un personaggio complesso e intrigante che lotta contro i suoi demoni interiori mentre cerca di raggiungere i suoi obiettivi. I personaggi secondari sono altrettanto sviluppati e contribuiscono a creare una trama piena di attenzione e mistero. L'imbo è perdibile per chi è interessato alla magia e alla mitologia.